Verso la fine del Medioevo, gli artigiani, stanchi di essere in fondo alla gerarchia sociale, decidono di fondare delle corporazioni per farsi rispettare di più e per essere più forti e decidono di tatuarsi il simbolo del proprio mestiere, anche per andare contro il tabù del sangue molto forte durante la società medievale. Gli artigiani si sono tatuati il simbolo del loro mestiere fino praticamente a oggi, cioè ancora nel nostro studio arrivano dei sarti che vogliono tatuarsi sul braccio la forbice del sarto perché senza conoscere questa storia il tatuaggio del proprio simbolo del proprio mestiere fa parte della loro cultura inconscia. Sempre durante il Medioevo la Chiesa per colpevolizzare gli artigiani che la Domenica invece che andare a Messa lavoravano fece dipingere questi affreschi chiamati il Cristo della Domenica dove si vede Cristo che viene ferito da tutti gli strumenti degli artigiani. Come dire, se tu lavori ferisci Gesù. oo m m